Ciao ragazzi, sono Giuseppe e ora vi farò vedere le mappe di Vici e Citi e i bidoni della spazzatura Provesciate questi bidoni Se non ci credete, prendete la manca di fotografica Fate lo zoom Eccoli là Le mappe di Vici e di Citi Secondo me, i creatori della Rockstar l'hanno messo in video nelle spazzature per far capire che quelle mappe erano delle persone vecchie E ora andremo... cioè, scusate, ora vi faccio vedere dove si trova Esattamente lì Qui Vicino a San Piero Ora andremo a Los Santos Nel cimitero A vedere cosa ci aspetta Esattamente qui Ok Vedete il jackpot Eccolo E ne andiamo Eccolo 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 vediamo dove siamo ecco che manco ancora per richiestare è un po' d'ora di arrivare a presto a proposito per andare a San Piero vi sarò il truco mei ricercato è un tripostito a presto eccoci siamo quasi arrivati e oggi il cimiterio di Los Santos qua dentro si può arrivare che c'è? una scatola della pizza una poltrona e una tv per me questo fa parte di per evitare poi andiamo a vedere una domanda ma dove sono tutte? ah eccole qui ho già la buca fantasma che non si cade giù poi su queste mosci dovrebbero essere graffitti fantasma che appaiono dalle 22 alle 6 però ci vuole ancora 10 minuti ancora 9 minuti e quindi per oggi è tutto andate a vedere graffitti fantasma ciao graffitti Grazie.